l'officina di verniciatura di tom ehi carl, sembri felice dove stai andando? all'officina di verniciatura di tom? sei fortunato! ciao piccol, stai andando all'officina di tom anche tu? davvero? grande, quali personaggi state per diventare? voi due insieme diventerete tom e jerry? non vedo l'ora di vedervi ehi tom, sei pronto a trasformare carl e piccol in tom e jerry? sì? fantastico! chi vuole andare per primo? tu carl? va bene ci vediamo tra poco piccol da cosa cominciamo? dipingeremo carl di grigio come tom il gatto? buona idea! abbiamo bisogno di altri colori? sì? per che cosa? vuoi dipingere una pancia su carl? uh huh perfetto cos'altro ci serve? delle orecchie da gatto wow carl sembri proprio come tom manca qualcosa un naso da gatto ovviamente è tutto tom una coda sei fantastico carl volevo dire tom cominciamo con picco adesso tom spruzzeremo di vernice anche picco? di che colore? marrone come gerry il topo? ok tom procediamo e anche una pancia grande idea cosa ne pensi delle orecchie da topo? eccole abbiamo anche dei baffi per picco? non hai dimenticato qualcosa tom jerry non ha bisogno di una coda picco è pronta per andare a giocare fuori tom sembri proprio gerry guarda carl sta dando la caccia a piccol proprio come tom e gerry ciao tom ciao tom arrivederci alla prossima hey charlie dove stai andando? stai andando a farti fare un makeover all'officina di verniciatura di tom? fammi indovinare vuoi diventare spiderman è stato il gancio sulla gru che ti ha tradito sembra già che tu abbia una tela di ragno ma forse è più sicuro se lo ritiri mentre vai da tom hey tom sembra che qui sia tutto pronto per trasformare charlie in spiderman c'è un sacco di vernice rossa hai ragione charlie è un veicolo grande e quindi avrà bisogno di molta vernice per coprirlo tutto assomigli un po' a frank il camion dei pompieri forse c'è un altro dettaglio che occorre aggiungere tom naturalmente ragnatele aspetta avrete bisogno anche di un pennello sottile che c'è un po' aardrimo? un po' aardrimo è un po' aardrimo? un po' aardrimo? una pellezza non è tanto che è natura un po' aardrimo? che sia un po' aardrimo? un po' aardrimo è un po' aardrimo? 攝asciate il taffẳa un po' aardrimo? bella memoria tom spiderman indossa anche una mascherina per gli occhi chiudi gli occhi charlie charlie tieni ancora gli occhi chiusi per un minutino mentre la vernice si asciuga che cosa sta combinando tom questo adesivo a forma di ragno è geniale sembra che ci sia ancora una cosa da fare quanti di quei copricerchi ti servono tom? sei? contiamoli uno due tre quattro cinque e sei wow assomigli proprio a spiderman charlie ben fatto tom ah ecco perché charlie aveva la gru e il gancio estesi non solo voleva sembrare spiderman ma anche muoversi come spiderman arrivederci amici